ciao a tutti vi presento questo video scaricare immagini immagini di raymond bard immagini ok sono libere queste immagini sono libere e potete usare a scopo evolutivo cercate quella più bella la potete pubblicare perché con queste immagini migliorerete il mondo ok ce ne sono migliaia sono libere ok le trovate in ogni motore di ricerca tanto veramente tanto ce ne sono tantissime ok raymond bard se volete poi condividete con la stag o col tag cosa vuol significare l'immagine e aiuterete me a migliorare questo mondo ok ciao a tutti